La bigenitorialità è il diritto di un bambino ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. È un impegno che ogni genitore dopo la separazione prende direttamente col bambino. I figli dei genitori separati ci chiedono di avere un rapporto, di continuare a vivere con i genitori e non essere abbandonati. Si può decidere di separarsi ma mai dai loro bambini. Probabilmente per un solo pregiudizio dovuto a come viene interpretato attualmente l'affido condiviso. La legge attuale già impone che ogni figlio debba avere un rapporto significativo con entrambi i genitori. Nonostante tutto dopo 12 anni assistiamo invece a una prassi che ormai rispetto a un po' il vecchio istituto giuridico precedente. In media un genitore vede due pomeriggi a settimana i bambini e più fine settimana al termine. Quindi stiamo al di sotto di un terzo dei tempi complessivi che un bambino possa auspicare. Occorre un miglioramento della legge attuale sull'affido condiviso oppure realizzare delle linee comuni sulla famiglia da parte dei tribunali, un po' come è accaduto al tribunale di Brindisi dove si sono chiariti i veri aspetti sulla regolamentazione e uniformità dell'affido materialmente condiviso. Quando si affrontano argomenti di questo genere ci sono diverse posizioni. Ovviamente la nostra posizione è unicamente quella di tutelare l'esclusivo interesse dei minori. Quello che gli altri fanno, quello che loro vogliono conservare, a noi interessa poco. Noi continueremo sempre su questa strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti.